Si è riunito a Palazzo Lascaris il direttivo regionale dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Nell'incontro il presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, è stato eletto presidente dell'organismo che elabora proposte e sviluppa iniziative perché all'interno di un contesto europeo gli enti locali possano concorrere al rafforzamento e alla valorizzazione delle autonomie regionali. Ho il piacere anch'io come il mio predecessore di presiedere l'associazione AICRE un'associazione che ha come finalità quella di avvicinare il respiro del territorio all'Europa e quindi creare una nuova Europa politica. L'Europa non è fatta dal palazzo ma è fatta dalla gente e dei territori quindi è necessario creare una rete tra gli enti territoriali, tra le associazioni e tra la comunità europea. a tutta.